all'alba del venerdì santo dell'anno giubilare 1300 il protagonista dante per salvarsi da una situazione di gravissimo pericolo spirituale intraprende la discesa all'inferno una voragine che si apre sotto la città di gerusalemme superando paure difficoltà materiali e tentativi di impedimento da parte dei diavoli al tramonto del sabato santo arriva al centro della terra dove è conficcato lucifero dal centro della terra dante e virgilio risalgono lungo un percorso sotterraneo la natural burella e la mattina di pasqua riemergono alla luce dell'emisfero boreale sulla spiaggia di un'isoletta agli antipodi di gerusalemme in mezzo da cui si innalza in mezzo all'oceano la montagna altissima del purgatorio dante e virgilio salgono la montagna in cima alla quale si trova il paradiso terrestre il settimo giorno dal paradiso terrestre il protagonista ascende attraverso le sfere concentriche i cieli che ruotano intorno alla terra fino a raggiungere l'empireo il non spazio la sede della divinità dio ed i beati qui a mezzogiorno del settimo giorno dante contempla il mistero di dio